ehi pronto si sto lavorando a lei sei vabbè passo io dai ciao 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 per ora lo devi90 ma non lo sai più e ne vuole ancora poi dici che non ne devo spegniere pronto NO 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 devo andare con mia moglie e facciamo domani dai te lo faccio sapere io ciao 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 Che cazzino, organizzo una cosa, organizzo l'altra e poi alla fine. Beh, c'è mai c'è o no? Uh, è fu il mio figlio. Pronto? Oh, sì. Perché ti muovi così? C'è lo scatto alla risposta. Sì, ha chiamato mamma. Ciao. Te lo faccio sapere io. Ciao, ciao, ciao.